Annabeth Essere uccisi da Tartaro non sembrava affatto un grande onore. Mentre Annabeth fissava la faccia scura e vorticosa del dio, decise che avrebbe preferito morire in un modo meno memorabile, magari cadendo dalle scale o andandosene pacificamente nel sonno a 80 anni, dopo una bella vita tranquilla trascorsa insieme a Persi. Questa sì, che era una buona idea. Non era la prima volta che affrontava un nemico impossibile da sconfiggere con la forza. Di norma, una situazione del genere le avrebbe dato lo spunto per temporeggiare con una bella chiacchierata intelligente in stile Athena. Peccato solo che la sua voce era sparita. Non riusciva neanche a chiudere la bocca. Per quanto ne sapeva, stava sbavando proprio come Persi quando dormiva. Annabeth era vagamente consapevole dell'esercito di mostri che le turbinava intorno, ma dopo l'iniziale rugito di trionfo, l'orda era ammutolita. A quest'ora lei e Persi avrebbero dovuto essere già a pezzi. Ma i mostri si tenevano a distanza, aspettando che fosse Tartaro ad agire. Il dio dell'abisso flette le dita, studiandosi gli artigli neri e levigati. Aveva un volto inespressivo, ma raddrizzò le spalle come se fosse contento. «È bello avere una forma! Con queste mani posso sventrarvi!» La voce di Tartaro sembrava registrata al rallentatore, come se le parole fossero risucchiate nel vortice della sua faccia, piuttosto che proiettate verso l'esterno. In effetti, tutto sembrava attratto dalla faccia del dio. La luce fioca, le nubi velenose, l'essenza dei mostri. E perfino quel poco di forza vitale rimasta ad Annabeth. Guardandosi intorno, la figlia di Atena si accorse che a ogni oggetto di quella vasta pianura era cresciuta una vaporosa coda da cometa, e tutte puntavano verso Tartaro. Avrebbe dovuto dire qualcosa, lo sapeva, ma l'istinto le suggeriva di nascondersi. Ed evitare qualsiasi gesto che attirasse l'attenzione del dio. E poi cosa avrebbe potuto dire? «Non la farai franca?» Non era vero. Lei e Persi erano ancora vivi, solo perché Tartaro si stava godendo la propria nuova forma. Il dio voleva assaporare il piacere di farli fisicamente a pezzi. Se avesse voluto, avrebbe potuto divorare la loro esistenza con un solo pensiero, così come aveva disintegrato Iperione Crio. Ci sarebbe stata una rinascita dopo. Annabeth non aveva nessuna voglia di scoprirlo. Accanto a lei, Persi fece una cosa che lei non gli aveva mai visto fare. Lasciò cadere la spada che colpì il terreno con un tonfo sordo. Il suo viso non era più ammantato dalla foschia della morte, ma il colorito era ancora quello di un cadavere. Tartaro si bilò di nuovo. Forse rideva. «La vostra paura emana un profumo meraviglioso. Capisco il fascino di possedere un corpo dotato di tutti questi sensi. Forse la mia amata Gea ha ragione a volersi destare dal sonno. Il dio allungò l'enorme mano purpurea e avrebbe strappato Persi da terra come un'erbaccia, se non fosse intervenuto Bob. «Vattene!» Il titano puntò la lancia contro il dio. «Non hai diritto di mischiarti!» «Immischiarmi?» Tartaro si girò. «Io sono il signore di tutte le creature dell'oscurità, minuscolo giapeto. Faccio quello che mi pare piace!» Il ciclone della sua faccia nera turbinò più velocemente e mise un ululato così orrendo che Annabeth cadde in ginocchio e si tappò le orecchie. Bob inciampò. L'esile coda di vapore della sua forza vitale si allungò mentre veniva risucchiata verso la faccia del dio. Il titano ruggì in tono di sfida. Partì all'attacco, puntando la lancia contro il torace di Tartaro. Prima dell'impatto, il dio dell'abisso scansò il titano con un gesto della mano, come un insetto fastidioso. «Bob finì gambe all'aria?» «Perché non ti disintegri?» si chiese Tartaro. «Sei una nullità!» «Sei perfino più debole di Crio e Iperione!» «Io sono Bob!» dichiarò il titano. «E cosa sarebbe un Bob?» «Ho scelto di essere più di Giappeto!» rispose il titano. «Tu non mi controlli!» «Non sono come i miei fratelli!» Il collo della tuta del titano si gonfiò. Bobbino balzò fuori e atterrò davanti al padrone. Poi arcò la schiena e soffiò contro il signore dell'abisso. Sotto gli occhi di Annabeth il gattino cominciò a crescere e la sua forma prese a valuginare finché non si trasformò in una tigre scheletro dai denti a sciabola. Bob sorrise. «E poi... ho un bravo gattino!» Bobbino, che tanto Ino non era più, balzò contro Tartaro, affondando gli artigli in una coscia del dio. Poi gli si arrampicò su una gamba, proprio sotto il gonnellino a maglie di ferro dell'armatura. Tartaro cominciò a dimenarsi e a ululare per il dolore. Non sembrava più tanto contento di possedere una forma fisica. Nel frattempo, Bobb conficcò la lancia nel fianco del dio, proprio sotto il pettorale. Tartaro ruggì. Tentò di colpirlo con uno schiaffo, ma il titano arretrò fuori dalla sua portata. Poi Bobb distese le dita. La lancia conficcata nella carne del dio si staccò da sola e gli volò in mano. Annabeth restò senza fiato per lo stupore. Non avrebbe mai immaginato che una scopa avesse così tante funzioni utili. Bobbino balzò giù dalla gonna di Tartaro e si precipitò accanto al padrone, con le lunghe zanne a sciabola gocciolanti di core dorato. Tu morirai per primo, già, Peto! Decretò il dio. Poi aggiungerò la tua anima alla mia armatura, dove si dissolverà lentamente, all'infinito, in un'eterna agonia! Tartaro sbatté il pugno contro il pettorale. Facce lattiginose vorticarono sul metallo, gridando senza voce nel vano tentativo di liberarsi. Bobb si girò verso i ragazzi. Andate alle porte! Disse sorridendo. A Tartaro ci penso io! Annabeth si disse che, probabilmente, lei non avrebbe avuto la stessa reazione davanti alla minaccia di un'agonia eterna. Tartaro gettò la testa all'indietro e mucchiò, producendo un vuoto talmente potente che i demoni volanti più vicini furono attratti dal vortice della sua faccia e ridotti a brandelli. Ci pensi tu? Lo derise il dio. Sei solo un titano, un figlio minore di Gea! Ti farò pentire della tua arroganza! Quanto ai tuoi minuscoli amici mortali! Tartaro agitò la mano verso l'esercito di mostri, invitandoli a farsi avanti. Distruggeteli!